La vicinanza all'intera comunità di Nacerata. L'obiettivo è che la presenza dello Stato rassicuri tutti i cittadini che gradualmente faccia tornare la situazione a una situazione di normalità. Ricordare quello che è successo è una lezione anche preventiva per le nostre comunità. La firma che abbiamo appena fatto e alla quale avete assistito di questo protocollo d'intesa per la realizzazione del nuovo edificio che ospiterà a Via Roma la sede della Postura finalmente unificata anche adesso in uffici diversi e contemporaneamente anche la sede della Polizia Stradale e nella stessa area un nuovo flesso scolastico che la commissaria De Micheli, diciamo, dirò quando, ha detto che vorrebbe vedere in funzione... Grazie! 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 Grazie!